Musica Ehi, hai dimenticato il resto? Oh, mettimi lì lì per favore Ok Ragazzi, dimenticavo di dirvi che oggi ci sarà una nuova ragazza Una nuova compagna di classe Ma è una bella gnocca Ma io ho qualche amichetta, ai parioli Mi piacevano i miei muscoli Mi hanno detto che sembro un gladiatore Avevano ragione Sembrano, ma non li sono Si, hai detto? Tu, cosa hai fatto al mio Yuri? Brutta casa! La gente deve capire che la defibrillazione è un modo per salvare la vita Allora, nel caso in cui una persona perda conoscenza improvvisamente, è importante attivarsi immediatamente Allora, adesso vi faccio vedere tutta la tecnica Ok, e dopo proverete voi Non pensavamo che ci nascondessi delle cose Allora, adesso vi faccio vedere tutta la tecnica Allora, adesso vi faccio vedere tutta la tecnica